Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al tragico incidente aereo che si è portato via Giuseppe Ed Emanuele Alabbiso, domani in Chiesa Madre a Gela. I funerali, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, oggi le salme arriveranno in città e sarà allestita la camera ardente, intanto proseguono le indagini per risalire alle cause del tragico episodio. Si daranno domani alle 12 in Chiesa Madre i funerali di Giuseppe Ed Emanuele Alabbiso, deciduti a seguito di un incidente aereo lunedì scorsi mentre a bordo di uno stormo a 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli, destinazione Foggia. Le salme arriveranno nel pomeriggio a Gela. In Chiesa Madre sarà allestita la camera ardente. L'esame autoptico iniziato nel primo pomeriggio di ieri all'ospedale Papardo di Messina si è protratto fino a tarda sera. L'autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pazzuticotto, Francesco Lomonaco. Per domani il sindaco Domenico Messinese ha proclamato il lutto cittadino. La fornesta notizia, detto il primo cittadino, ha provocato un senso di smarrimento e di sgomento che ha pervaso tutta la città. Giuseppe ed Emanuele erano conosciutissimi. Giuseppe Alabbiso per la sua passione di pilota, di aerei ultraleggeri, ha portato in giro per l'Europa ed il mondo il nome di Gela, dando lustro alla città a seguito anche dei diversi records conseguiti in materia di aviazione. Le istituzioni cittadine e l'intera comunità giorese partecipano al dolore dei familiari delle vittime. Il sindaco invita la cittadinanza tutta, le organizzazioni politiche, sociali e produttive a partecipare al lutto cittadino con la sospensione delle attività in senso di raccoglimento e di rispetto durante le esegue. Intanto dai fondali del Martirreno a 1.500 metri di profondità affiorano i primi resti dello Storm 300. A recuperarli sono i militari della Guardia Costiera. Tra questi, così come scrive Eolia News, citando le parole del procuratore capo della Repubblica di Barcellona Pozzuticotto, Emanuele Crescenti, ce n'è uno che potrebbe rivelarsi interessante. Si tratta di un'indagine particolarmente complessa, ha detto il magistrato, ma faremo tutto quello che c'è da fare per risalire a quanto realmente accaduto. Un'inchiesta è stata aperta anche dall'ente nazionale aviazione civile. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso alimentare dell'acqua in erogazione nei quartieri Macchitella e Capo Soprano, in quanto supera il valore del parametro di torbidità. Le analisi chimiche sono state eseguite dal Dipartimento di Prevenzione del distretto gelese su campioni nei punti di prelievo in entrata ed in uscita. La regolare distribuzione idrica a Gela, martedì 1 dicembre, sarà ridotta da una mancata fornitura ai serbatoi di Spina Santa a causa di una interruzione di corrente elettrica alla centrale di sollevamento di Giardinello. Ed ora dedichiamoci ai problemi che interessano il comparto agricolo a Gela. Una migliore gestione del Consorzio di Bonifica, un accordo con le Università di Berlino e Catania all'utilizzo dei fondi per la Banca della Terra, sono alcuni dei temi affrontati il risera nel corso di un incontro con il settore agricolo promosso dall'assessore all'agricoltura del Comune di Gela, Simone Siciliano. I imprenditori ed esperti hanno denunciato alcune criticità di un comparto in forte flessione chiedendo che delle loro rivendicazioni vengano investite anche le autorità regionali. L'approvvigionamento in riguo rimane uno dei problemi maggiori, così come grande attenzione va prestata alla sicurezza delle campagne. L'incontro di oggi era volto a fare la situazione su quello che l'amministrazione sta già portando avanti come attività produttive, in particolare come comparto agricolo, con quelle che sono le esigenze di chi vive le attività agricole. Ovviamente le questioni sono tante, dal controllo delle aree rurali, alla gestione delle infrastrutture, ma sicuramente anche alla gestione della distribuzione dell'acqua in rigua, che ha delle carenze notevoli che poi possono finire anche in capo ad una gestione di un consorzio di bonifica, ridotto all'ubicino dai mancati conferimenti o comunque i ridotti conferimenti da parte della regione. Queste sono tutte azioni che politicamente l'amministrazione vuole portare avanti, vuole portare ai tavoli regionali per fare chiarezza su quello che sarà il destino dell'agricoltura a Gela, ma soprattutto su quello che sarà il futuro invece della trasformazione agroalimentare. Lo scopo, come si è detto anche in altre circostanze, è quello di cercare di incentivare, di promuovere i prodotti locali per un mercato globale. Ieri sono intervenuti tra gli altri il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Enzo Giudice ed il direttore della riserva del biviere Emilio Giudice. L'agricoltura è un settore molto importante, anzi purtroppo credo, purtroppo tra virgolette, in questo momento dopo la chiusura della raffinità credo che sia il settore che dà più occupazione nel nostro comprensorio e anche a livello di pille di produzione ordeavendibile credo che sia il primo settore sempre a Gela. Pensare che l'amministrazione alla sola possa risolvere tutti i problemi dell'agricoltura non è proprio un'idea geniale, quindi io direi di coinvolgere anche gli imprenditori agricoli. La pagina della cronaca giudiziaria, intensa attività da parte della Polizia di Gela con un arresto, un obbligo di dimora e due denunce. Manette per Salvatore Argentieri, 27 anni, che dovrà scontare 5 mesi ai domiciliari per evasione aggravata. Obbligo di presentazione in commissariato invece per Filippo Scandrello, 36 anni, coinvolto nell'operazione denominata Parenti Serpenti. Un uomo di 45 anni è stato invece denunciato per lesioni personali. Dovrà rispondere di possesso di un grammo e mezzo di cocaina un uomo di 49 anni. Il dramma di una città, prima che il dramma di tanti padri di famiglia. La crisi epocale che sta colpendo Gela dopo la chiusura della raffinazione e l'addio di Eni, che per oltre 50 anni ha segnato nel bene e nel male il destino di questa città, è stata al centro del focus della puntata di Agora, andata in onda ieri sera su Canale 10. I risultati, finora impalpabili, ottenuti con il protocollo d'intesa, firmato il 6 novembre dello scorso anno al mese di Roma, con il quale si è sancita una riconversione industriale che è purtroppo rimasta finora tutta solo sulla carta. Di fatto e di concreto, appunto, c'è solo la disperazione di tanti padri di famiglia, di tanti lavoratori, soprattutto quelli dell'indotto, ridotti oramai alla fame. Qualcuno di loro è ancora foraggiato dagli ammortizzatori sociali, che comunque scadranno il prossimo 31 dicembre, altri addirittura alla canna del gas da mesi. Drammi, appunto, che qualche ex lavoratore dell'indotto è venuto a raccontare ieri sera ad Agora, come quel padre di famiglia, che ha ammesso di non avere potuto comprare libri scolastici al figlio di 16 anni, e che per questo motivo è stato bocciato ed ha scelto di ritirarsi dalla scuola senza conseguire neppure il diploma. O come quell'altro padre che, non avendo soldi, ha costretto la figlia ad abbandonare gli studi universitari. Storie di ordinaria disperazione in una città che è stata massacrata da oltre 30 anni di malgoverno cittadino, amministrata da politici interessati solo ed esclusivamente al proprio tornaconto personale e forse persino incapaci di affrontare seriamente i problemi della città, ma che per tanti anni sono stati regolarmente votati ed eletti da un popolo che, colpevolmente, si è fidato di questi personaggi, bravi solo a prendere in giro la propria gente. Oggi Gela è ridotta allo stremo e non può essere un caso o solo frutto delle congiunture temporali. Anche altrove la crisi è crisi, ma certo non si vivono i drammi che si stanno consumando in questa comunità, troppo legata per oltre un cinquantennio al solo reddito che proveniva dalla presenza del cane a sei zampe, che nel momento in cui, unilateralmente, ha deciso di smontare le tende da questo territorio, ha lasciato, con l'avallo della politica becera che ha governato Gela, con una pezza davanti ed una dietro, una intera città. Sono stati loro, i lavoratori dell'Indotto, diventati nel frattempo purtroppo ex, i protagonisti di Agorà. Un gruppo hanno partecipato alla nostra trasmissione da dietro le telecamere. Francesco Cacici, invece, è stato nel salotto televisivo del nostro rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico, assieme all'avvocato Lucio Greco, leader del movimento politico Un'altra Gela, al vice sindaco Simone Siciliano e al segretario confederale della UIL, Maurizio Castania. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10, oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo, come sempre in prima serata, con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano Gela e i Gelesi. È stato stilato il programma per la festa dell'Immacolata Concezione, prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Si comincia oggi alle 16.30 con lo scampanio festoso e lo sparo di 12 colpi a cannone annunziato alla città. Alle 18 l'eucaristia presieduta da donna Raimondo Giammusso nel 25esimo anno di Sagerdozio e alle 20.30 a veglia di avvento e solenne lucernaio animata dal Movimento Giovanile San Francesco. È in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di autorità politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Intervista a tutto campo al deputato regionale Arancio. Lo ha incontrato Filippo Guzzardi, al quale il parlamentare del PD ha detto la sua sul riforma delle province e politica regionale, giunta, grillina, vicenda, eni, agricoltura e turismo, gestione e rifiuti, porto e sanità. Sul partito non partito democratico di Gela scrive Sebastiano Abbenante che spiega perché oggi più di prima serve la politica dei partiti. Giulio Cordaro ironizza sui patrimoni dell'UNESCO e si chiede con il solito sascasmo se Gela deve puntare sulle mura di Caposoprano o su Crocetta. In prima pagina il giornale richiama il servizio sull'ultima operazione della polizia che ha portato all'arresto di 22 presunti mafiosi tra vecchie e nuove conoscenze. Il giornale ha fatto in tempo a riportare, seppur brevemente, la notizia, non ancora notizia, sul presunto inciucio tra la giunta messinese ed una parte dell'opposizione del Partito Democratico denunciato su Facebook dall'ex sindaco Fasulo. All'interno altri articoli ai servizi di Nello Lombardo, Elio Cultraro, Franco Lauria, Marco Di Dio e Silvio Lisciandra. Ed infine lo sport con i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e promozione. La pagina degli annunci economici chiude come sempre il giornale da oggi in edicola. Una scuola che si apre al territorio, come sempre, è la Luigi Capuana, diretta da Cetta Mongelli. Nei pressi di Via Europa, Via Palazzi e Via Benedetto Croce sono numerose le attività che si realizzano al fine di permettere agli alunni di trovare proprio nella scuola un punto di incontro. Le attività sono laboratoriali e multidisciplinari. Stiamo cominciando un percorso per imparare i diritti dei bambini di tutto il mondo che devono essere sempre rispettati dagli adulti. Per esempio il diritto all'istruzione, al gioco, alla vita, alla crescita, all'istruzione e alla salute. E ce ne sono ancora tanti altri. Da i bambini in movimento, giocandosi in para, a il mare da mare. Dalla scoperta di un mondo diritto ai miti e sportivamente a scuola. Ed ancora conoscere, amare e valorizzare il patrimonio archeologico di Gela con le mini guide. Il nostro POF ha un titolo che è l'attenzione al territorio, l'apertura al territorio, la valorizzazione del territorio. In questa prospettiva abbiamo chiesto aiuto alle varie associazioni di sostenerci nel nostro progetto che ha una finalità, che è la competenza. Al di là delle conoscenze, al di là delle abilità, oltre noi lavoreremo con una didattica per competenze, perché alla competenza vogliamo arrivare, cioè all'autonomia, cioè alla professionalità di domani di un cittadino, di domani. Per gli alunni dell'infanzia sono stati attivati progetti di potenziamento e di recupero delle competenze. Abbiamo preparato delle picotte che venderemo a dicembre, in un mercatino di Natale. Queste bambole vendranno vendute all'UNCEF, che le daranno ai bambini meno fortunati. I progetti sono curriculari, con tempi distesi e non in orario giuntivo per i docenti. Prezioso è il contributo degli esperti esterni, altamente qualificati. Noi creiamo le condizioni affinché si vada verso l'inclusione, dalle prime classe della scuola materna, perché l'inclusione non è qualcosa che viene dall'alto, ma viene elaborata, viene vissuta. E quindi attraverso il progetto di Special Inps Young Athleta, noi stiamo facendo un programma che mette assieme attraverso il gioco disabile e non. Oltre a questo obiettivo di carattere sociale e da punto di vista futuristico sportivo, con sport unificato, noi diamo degli elementi di carattere psicomotorio, proprio per fare in modo che attraverso il corpo vado a migliorare anche quelli che sono i prerequisiti per la scrittura, la lettura, cioè i concetti di carattere cognitivo. E con il servizio dedicato alla scuola, noi ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità. Benvenuti in seconda parte del telegiornale, in occasione delle festività del Natale, la sottosezione Unitalsi di Gela è presente oggi, domani, ed il 5, 6, 12 e 13 dicembre prossimi, in Piazza Umberto I, in Via Palazzi, angolo via Albania, in Viale Corte Maggiore, nei pressi dei muretti di Macchitella, e davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata. Il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative e di far vivere dei momenti di condivisione fraterna ai diversamente abili. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà dei soci dello Juventus Club Doc di Gela, che in collaborazione con l'ADAS organizza una giornata dedicata alla donazione della sangue. L'iniziativa si darà domani nel centro di raccolta fisso di Via degli Appennini, al Civico 5. I donatori riceveranno una maglietta celebrativa dell'evento. Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Arrivata il grande jazz a Gela, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21.00. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino. Dalle 17 alle 20.00. Per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 911 892 oppure 345 5880 580. Corri con papà Natale, sesta edizione, si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9.30 in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Veletti. Informazioni e iscrizioni al numero 347 5799 271. Resital del pianista Nicolò Caffaro domani alle 19.00 al Palazzo Pignatelli di Gela. L'iniziativa rientra nell'81esima stagione concertistica giorese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, il direttore artistico e il maestro crocevisso Ragona. Ed ora lo sport con il calcio in punto in questo servizio. Una vittoria da dedicare a Giuseppe e ad Emanuele Alabiso nel giorno dei loro funerali. Il Gela scenderà in campo con l'alutto al braccio e prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio. È stata una settimana triste per i giocatori in maglia bianca-azzurra a seguito del gravissimo incidente aereo che ha causato la morte di due tifosissimi della squadra giolese. Emanuele, 26 anni, era un tifosissimo del team allenato dal tecnico Toto Brucculeri. Era sempre in curva ad incitare Campanaro e compagni. E per domani i supporters della curva Angelo Boscaglia lo ricorderanno. Per loro era Nero e Svizzero. Attraverso una locandina i tifosi del Gela dicono tra l'altro che tutto passa in secondo piano. Tutto viene messo da parte dinanzi allo strazio per avere perso un amico, un ultra, un rappresentante del vecchio stile. Uno di noi, oltre il dolore, Svizzero nel cuore. Tornando all'aspetto prettamente agonistico, la formazione è tanto cara al presidente Angelo Tuccio. Dopo l'esploadio domenica scorsa a Campofranco ha un solo obiettivo da conseguire e si chiama successo. Pandolfo e compagni affronteranno la profavara ultima in gradatoria. Impegno facile sulla carta, ma solo sulla carta. Qualche domenica dietro i giovesi furono fermati sul pareggio 2-2 dalla libertà sarà calmuto, timma dallo scarso contenuto tecnico con tutte le discussioni prevedibili che ne scaturirono. Dunque è meglio non fidarsi delle apparenze. Vincere domani avrebbe un effetto dirompente in classifica. I giovesi infatti sono a tre punti dalla capolista Dattilo Noir che se la vedrà in trasferta col Mussomeli. Ed in questo caso si tratta di una partita che nasconde parecchie insidie. La San Cataldese, che ha un punto in più rispetto al Gela, se la vedrà in casa con l'Alba Alcamo. Trasferta invece per la Folgore che ha gli stessi punti dei Biancazzurri contro il Camarat. Gela Profavara avrà inizio alle 15. Nel torneo di promozione invece l'Alte di Cogela, terzo in gradutoria, giocherà a Ragusa contro la quarta della classe. Si prevede una gara dagli alti contenuti tecnici. Il team, allenato da Peppe Misiti, fila come un diretto. Nelle ultime tre gare ha conquistato altrettanti successi. Continua al Teatro Comunale Eschilo la stagione teatrale. Oggi alle 17.15 e alle 21.15 Federico Buffa porterà in scena le Olimpiadi del 1936. Il botteghino, lo ricordiamo, è aperto dalle 17 alle 20. Mostra ornitologica Gela si svolge fino a domani presso la palestra del quinto circolo didattico Don Milani. L'ingresso è gratuito. Durante l'iniziativa sono previsti un concorso di disegno riservato ai bambini della scuola. La seconda mostra fotografica curata da Max Bella è la prima mostra di pittura promossa da Dino Lancianese. Vi ricordo che servizi e notizie possono essere consultati attraverso il nostro portale tg10.it ed in chiusura vi ricordiamo sempre che il televideo della nostra emittente è costantemente aggiornato. Abbiamo concluso, grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.